Siamo nella post partita di Ardia Lositano con il mister in seconda della Lositana Catracchia Mister, oggi non era una partita per nulla facile perché con la vittoria dell'Ardia Sud di voi 3-1 è la tredicesima vittoria consecutiva per l'Ardia, però avete risposto bene in campo e fino a sette minuti dalla fine il risultato era sull'1-1, come giudica la prestazione dei ragazzi? Buonasera, oggi era una partita difficilissima, 13 vittorie consecutive su 13 non si fanno per caso è una grande squadra, l'ho detto anche all'andata i ragazzi è stata una gran bella partita, non possiamo dirgli assolutamente nulla giocata a viso aperto qui in casa appunto della capolista un peccato magari per come è finito ma sinceramente tante belle parate di tutti e due i portieri magari potremmo segnare noi, hanno segnato loro, hanno vinto loro però ci portiamo tantissime cose positive da questa partita, tantissime Anche diciamo da questa sconfitta comunque, però come è andata la prestazione comunque dei ragazzi può essere un segnale però la Lusinana per affrontare le prossime partite? Beh sì, i ragazzi oggi hanno dimostrato veramente appunto di fare un'ottima partita penso a cinque, sette minuti alla fine insomma abbiamo preso il gol del 2 e del 3 a 1 quindi sono stati in partita, tutta la partita con una squadra così forte che non ha mai perso, quindi devi portare tante cose positive da qui e usarle diciamo per il resto che ci aspetta Prossima partita contro il team Nuova Florida, che partita ti aspetta? Loro sono una buonissima squadra, è stata una bellissima partita qui all'andata su questo campo, è finita 3 a 4 per noi, insomma di un gol di scarto a un minuto dalla fine potiamo vincere entrambi, sono molto organizzati, sarà una bella partita